Riprendiamo il discorso avviato sulla riscrittura delle equazioni e della dinamica di un sistema di n punti materiali, un sistema discreto, che abbiamo ottenuto a partire dalle n equazioni singole del moto, con la loro estensione agli effetti dei momenti delle forze e i lavori delle forze, cioè a questo apparato di equazioni con una scrittura che può anche mettere un po' di soggezione, ma in realtà è una reiterazione n volte delle singole, come appena detto, equazioni del moto. In particolare abbiamo nel riquadro rosso questa scrittura complessiva, sulla quale adesso voglio iniziare delle riflessioni via via, più quantitative e anche generali. Abbiamo visto che le equazioni dei momenti delle forze e corrispondenti momenti angolari per le singole particelle, come pure quelle dei lavori e delle variazioni di energia cinetica per le singole particelle, erano equazioni filiate dalle equazioni del moto primarie. Ora, aver sommato le equazioni del moto, ma anche le equazioni dei momenti angolari e dei lavori, introduce delle novità. Cioè, queste due equazioni che sono equazioni vettoriali, ora singole, hanno in sé delle informazioni aggiuntive rispetto a questa equazione qui, per il modo col quale si comportano nelle sommatorie queste espressioni. Più nello specifico, voglio convincervi che non è possibile, a partire dal risultante delle forze esterne e delle forze interne, determinare automaticamente il momento risultante rispetto a un dato polo delle forze esterne e delle forze interne, così neppure è possibile, a partire dal risultante delle forze esterne e interne, determinare i lavori totali delle forze esterne e delle forze interne. chiaro che se io ho una singola forza, questa mi permette il dato un polo, quindi una posizione sulla quale la forza applicata, determinare il momento e dunque poi l'eventuale variazione del momento angolare. Ma aveva scritto questa relazione in termini di risultanti, è una novità. Novità, se non fosse chiaro lo ridico in un altro modo, che il momento totale, il risultante dei momenti, quindi per esempio quello esterno, non è in generale il momento della forza totale esterna. Comeppure il momento totale associato all'azione delle forze interne non è il momento del risultante delle forze interne. Analogamente, anche il lavoro totale delle forze esterne non lo posso tenere a partire dalla forza totale esterna. Oppure stesso discorso per il lavoro totale interno e il risultante delle forze interne. Capiamo intuitivamente perché questo non può funzionare, poi vi faccio due semplici esempi per convincervi definitivamente. Il momento totale delle forze esterne dipende non solo dalle singole forze esterne, ma anche dal posto nel quale la posizione, nel punti nei quali queste forze esterne vengono applicate, ciascuna presa singolarmente. Oppure stesso discorso per le forze interne. Quindi per ottenere il tau esterno, oltre a sapere le singole f con i, devo sapere le singole r con i, quindi la posizione delle particelle. Questa informazione non è contenuta nel totale delle forze esterne. Questa è la somma delle forze e basta. Per avere il tau esterno devo sommare, avendo anche le forze esterne, i singoli punti delle loro applicazioni. E la stessa cosa vale poi per i lavori. La forza totale esterna non è sufficiente per spiegarmi il lavoro totale, perché per ottenere questo devo sapere anche i singoli cammini che hanno interessato le singole forze. Provo a convincervi con due semplici esempi di questa situazione e li consideriamo esplicitamente. Prima consideriamo un sistema, una coppia di forze che è disposta nello spazio in qualche modo, tale però che le due forze sono di pari intensità, direzione opposta, le chiamiamo F1 e F2, sono applicate a equidistanza da un punto che chiamiamo O e la prima è una distanza A orientata in questo modo, come dal disegno, e la seconda una distanza pure A, però orientata in quest'altro modo. Spero che torni che la forza totale, F2, quindi qui non parliamo di esterna e di interna, per fare solo un esempio, che è la somma di F1 più F2, per come ho scelto io questo sistema, fa zero, il vettore nullo. Ora possiamo anche calcolare i momenti delle due forze. I momenti delle due forze rispetto al polo comune O saranno tau 1 è A esterno a F1 e tau 2 rispetto a O. E tau 2 rispetto a O, per come l'ho scritto io in questo disegno, è meno A esterno a F2. Vedete però che siccome F1 è uguale a meno F2, da questa, possiamo anche scrivere che questa è uguale a A per F1. Quindi tau totale rispetto a O è due volte A per F1, che è palesemente un vettore diverso da zero. Cioè abbiamo un caso, banale ma chiarissimo, indiscutibile, di un sistema di forze il cui risultante è nullo, ma il cui momento risultante non è nullo. Cioè esattamente quello di cui vi avvisavo poco fa. Non basta sapere il risultante delle forze, e in questo caso è zero, per determinare il momento risultante, che in questo caso è diverso da zero. Allora, attenzione, dato il risultante delle forze, non ho tutto quello che mi serve per calcolare il risultante dei momenti. Senza punti di applicazione, senza punti di applicazione, non riesco a calcolarlo. Analogo, diciamo, sulla stessa linea di esempio, parlando invece di lavoro e energia, prendete di nuovo un sistema costituito da due forze che sono di pari intensità e opposte nella loro azione che però ora sono giacenti sulla stessa retta o linea d'azione. Quindi abbiamo di nuovo un caso di risultante del sistema forza totale F1 più F2 uguale a zero. Potete anche prendere, per esempio, un punto a metà strada fra queste due e chiaramente si ottiene subito che anche il momento totale, in questo caso, è il vettore nullo. Perché le due forze entrambe hanno braccio nullo e quindi il loro momento separatamente e complessivamente è zero. Bene, però adesso immaginiamo che le due forze si avvicinino l'una all'altra compiendo una certa strada, diciamo un percorso uguale che le porta a congiungersi o avvicinarsi in qualche modo. Vedete che banalmente in questo caso, anche in questo caso, il lavoro totale del sistema è la somma dei due lavori delle due forze sul cammino che fanno, quindi è il W1 più W2, ma se stanno camminando nel senso di ricongiungersi i due punti materiali, i valori dei lavori sono il primo D per F1, paralleli uno all'altro, e anche il secondo è D, o se preferite scrivere meno D per meno F1, che è la stessa cosa, viene 2D per F1, che è un numero non nullo, risultante delle forze nullo, risultante anche dei momenti nullo, ma lavoro diverso dal zero. Ecco dunque che abbiamo visto che due case molto semplici, quindi non possiamo aspettarci niente di meglio in generale, di nuove informazioni che danno le equazioni complessive dei momenti e dei lavori rispetto a quello che dà l'equazione totale della variazione della quantità di moto in termini del risultante delle forze. Adesso però cerchiamo di mettere un po' di punti fermi nel nostro discorso, che ormai ha un sacco di ingredienti pronti per la cottura. E parliamo ancora una volta del terzo principio della dinamica, solo che adesso lo enunciamo in una forma più generale possibile riferita a questa forma ai sistemi di punti materiali, di particelle, punti formi. Noi avevamo già visto, quando avevamo fatto l'esperimento di Huygens, che è un esperimento di dinamica, di interazione fra due carrelli, quindi fra due corpi, l'esperimento che ci ha spiegato che la forza è un'interazione che fa cambiare la quantità di moto. Ecco, avevamo visto che, avevamo visto un'idea di conservazione di qualcosa, di cosa, della quantità di moto, che era poi un modo di esprimere, riferita a questa conservazione al tempo, la natura isolata del sistema, cioè c'è una forza interna della molla che esisce per i carrelli, questa fa variare la quantità di moto di due carrelli, eventualmente nel tempo, in maniera uguale e contraria, in modo tale che la quantità di moto totale si conservi. Allora, questa idea della conservazione della quantità di moto del sistema di due carrellini ha un valore, un'espressione molto più ampia, più generale che è enuncio e poi, diciamo anche, voglio anche scrivere, l'enunciato è che nel sistema isolato che stiamo considerando, cioè libero da interazioni con il mondo esterno, non c'è un mondo esterno, tutto quanto è nel sistema, Allora, se il sistema isolato ci sono due grandezze vettoriali che non cambiano nel tempo, che sono conservate e sono la quantità di moto totale, la pi grande, e il momento della quantità di moto, ovvero il momento angolare totale, rispetto a un polo fissato. Lo scrivo perché questo è un punto, diciamo, fisso molto importante, in un sistema isolato, c'è solo lui nell'universo, ci sono due vettori che non cambiano mai, due grandezze vettoriali, dinamiche, cinematiche, la quantità di moto totale, pi grande, e il momento angolare totale, rispetto a un polo fisso scelto arbitrariamente, e poi vedremo qualcosa di più su questa fissità del polo. Allora, vedete che questa è una formulazione più ampia di quella dei carrellini di Huygens, erano solo due, e qui stiamo parlando in generale di n particelle, e anche, stiamo parlando anche di un momento angolare rispetto a un polo, cosa che non ci era interessata nel caso dei due carrellini. È un principio, quindi non mi venite a chiedere, io mai vi chiederò da dove viene, se non dall'esperienza, dall'osservazione sistematica accanita degli eventi della natura, di come si comporta la natura. E questa è l'origine di tutti i principi, incluso questo, nella sua formulazione più generale possibile. Notate che in questa formulazione, appunto, assegniamo delle caratteristiche di tipo cinematico, quantità di morte al momento angolare, sono grandezze di natura cinematica, del sistema. Grazie però alle relazioni che abbiamo appena scritto, su quali adesso insisteremo, il terzo principio ci porterà a leggere anche dinamicamente questa situazione. Perché? Perché abbiamo delle relazioni che collegano le variazioni della quantità di moto nel tempo e del momento angolare nel tempo con l'azione delle forze complessivamente agenti sul sistema e dei momenti che agiscono sul sistema. Io sto parlando in questa lavagna di queste due relazioni in particolare. Vedete che da una parte ci sono le variazioni della quantità di moto espresse in termini di grandezze dinamiche complessive e qui abbiamo le variazioni del momento angolare di quest'altra grandezza cinematica in termini delle variazioni degli effetti dei momenti risultanti delle forze agenti sul sistema. Quindi ci sarà un collegamento formidabile fra causa ed effetto. Allora che cosa si fa? Allora facciamo questa serie di passaggi piuttosto semplici. Innanzitutto scegliamo v0 uguale a scegliamo un polo fisso. Ok? Quindi polo fisso vuol dire mettere v con o uguale a 0 nelle nostre nelle nostre equazioni. E poi prendiamo un sistema isolato perché voglio vedere come lavora il nostro terzo principio con le equazioni che abbiamo. Allora se il sistema è isolato questa è equivalente a dire che non ci sono forze esterne ovvero il loro risultante è nullo come pure nullo il risultante il momento risultante cioè la somma di tutti i momenti di tutte le forze che agiscono esternamente al sistema. Anche questo è un vettore nullo. che cosa otteniamo? Allora possiamo riscrivere le nostre equazioni quelle incorniciate di rosso di poco fa le possiamo scrivere ponendo l'ipotesi del sistema isolato semplicemente come dp grande su dt è uguale al risultante delle forze interne. Le forze esterne non ci sono perché è il sistema isolato e il dlo variazione del momento angolare totale rispetto al polo fisso e non devo quindi aggiungere perché ho fissato il polo il vo esterno a pi grande quindi solo questo è uguale al momento risultante rispetto a questo polo fisso delle forze interne il momento risultante dovuto alle forze esterne è uguale a zero. Allora adesso siamo a a buon punto del nostro discorso leggiamo cosa dice il riquadro che enuncia il terzo principio dice che se il sistema è isolato e noi l'abbiamo isolato il sistema la quantità di moto totale è un vettore costante nel tempo cioè di pi grande su di t è un vettore nullo questo vuol dire aver tradotto formalmente l'immutabilità l'invariabilità della quantità di moto totale ma anche il momento angolare totale rispetto a un polo fisso si conserva nel tempo quindi anche il dlo su di t deve essere uguale al vettore nullo questo è il predicato matematico del terzo principio dinamica dei sistemi allora prendiamo queste relazioni e le inseriamo in queste e chiaramente otteniamo che il risultante delle forze interne che è uguale al di pi grande su di t che è zero è zero e la stessa cosa il risultante dei momenti dovuti all'azione delle forze esterne rispetto al polo fissato che ho scelto è un vettore nullo quindi scrivo che per un sistema isolato vale questa relazione le forze interne sono a risultante e momento risultante nullo attenzione le forze interne però dipendono solo dalle coordinate relative posizionamento relativo di una massa rispetto a una qualunque altra all'interno del sistema ma non vengono a dipendere dall'eventuale se c'è azione di forze esterne cioè che ci siano o non ci siano forze esterne ovvero che il sistema sia isolato oppure non lo sia il ragionamento che abbiamo fatto fino a ora non può essere modificato influenzato cioè le relazioni che abbiamo scritto per ultime queste sono sempre valide detto in altre parole detto in altri in altri modi le forze di interazione fra le masse le forze interne le F con I interne sono un sistema di coppie di forze fra 1 2 fra 1 e 3 fra 2 5 fra 3 11 fra 2 e 9 quindi a coppie sempre a braccio nullo prese a 2 a 2 cioè ogni volta che prendo una coppia di masse la forza di mutua interazione fra le due masse I J qualunque sia qualunque sia I qualunque sia J è tale che la F I J uguale alla meno F J I e sono sulla stessa retta d'azione cioè hanno braccio zero in modo tale che poi quando faccio la somma dell'azione di tutte le forze interne la somma delle F interne con I ottengo un vettore nullo e la stessa cosa si dice per quello che riguarda la somma dei momenti associati a tutte le forze di natura interna faccio faccio notare che se voi prendete due sole masse questa affermazione che ho appena fatto cioè questo riquadro rosso equivale a riscrivere il principio di azione e reazione così come l'abbiamo imparato all'elementario o poco dopo insomma o poco più tardi perché pensiamoci un attimo insomma ma se qui ho M1 e qui ho M2 che sono soggetti all'azione di una coppia di forze interne avremo qui la F1 2 e la F2 1 e le disegno correttamente in modo tale che il risultante di queste forze sia uguale al vettore nullo sono forze uguali e contrarie ma anche tali che preso un qualunque polo un qualunque polo o il tau rispetto a questo polo risultante somma dei tau dei momenti rispetto a questo polo delle due forze sia anche il vettore nullo questo è sicuro solo quando cioè funziona quando le due forze hanno la stessa retta d'azione e questo è il principio di azione e reazione in tutto il suo splendore dunque adesso ci siamo riscriviamo le equazioni che hanno ispirato tutto questo primo ragionamento ovvero che la quantità di moto totale del sistema varia nel tempo come effetto cumulativo del risultante delle forze esterne più quelle interne e il momento angolare totale rispetto a un polo fisso del sistema varia come causa dell'effetto combinato del momento risultante delle forze esterne rispetto a questo polo e del momento risultante rispetto a sempre questo stesso polo delle forze interne ma il terzo principio della dinamica ci ha condotti a scrivere che comunque vadano le cose il sistema si è isolato o meno questo è irrilevante il risultante delle forze interne è un vettore nullo il risultante delle forze esterne e scusate e il risultante dei momenti causati dalle forze interne rispetto a questo stesso polo fisso è anche il vettore nullo combinando queste due relazioni possiamo scrivere il punto d'arrivo di questo nostro discorso cioè che per un sistema qualunque di punti materiali non occorre che sia isolato assolutamente no la quantità di moto del sistema varia nel tempo soggetta unicamente all'azione del risultante vettoriale delle forze esterne agente sul sistema e in un aumento angolare di questo stesso sistema calcolato rispetto a un polo fisso in questo momento altrimenti sapremo come correggere questa eventualità varia il momento angolare totale sotto l'azione del risultante del momento delle forze esterne riferito al polo fisso queste equazioni con o senza il termine che corregge per l'effetto della movimentazione del polo quindi qui potrebbe esserci dlo su di t è uguale a meno vo esterno a pi totale questo eventualmente ne terremo conto quando sarà da farci i nostri conti ecco però queste due equazioni sono insisto voi direte sappiamo leggere si capisce bene che sono due equazioni però sono due equazioni vettoriali cioè sono sei equazioni scalari in 3D in uno spazio a tre dimensioni si chiamano hanno anche un nome sono più che importanti sono cardinali sono le equazioni cardinali della dinamica dei sistemi di punti materiali materiali e a prescindere dalle vostre credenze religiose tradizioni abitudini eccetera io vi consiglio di ricopiarvi queste due equazioni sono molto compatte sono brevi e di recitarle a memoria ma con saggezza cioè cercando di capire bene cosa state dicendo perché senza queste equazioni non si va da nessuna parte nella meccanica non solo con la classica ma anche più avanti come vedrete sono delle linee guida anche per la meccanica quantistica con tutte le variazioni e le amplificazioni eccezioni e eccezioni del caso ma restando nell'ambito della meccanica classica con queste due equazioni vettoriali abbiamo la speranza di ottenere informazioni per sei incognite scalari né più eventualmente di meno certo ma non certo di più cosa è successo noi abbiamo dato in pasto a tutto il nostro formalismo un sistema di n particelle che ha 3 n si dice gradi di libertà cioè coordinate potenzialmente da determinare in funzione del tempo ogni massettina ogni punto ha le sue tre posizioni lungo x y z in funzione del tempo quando ne ho tre di questi oggetti chiaramente scusate quando ne ho n di questi oggetti chiaramente quello che succede è che moltiplico per n le mie tre incognite tre n gradi di libertà allora qui quante equazioni ho scritto sei evidentemente non appena n diventa maggiore strettamente di due sempre stando in uno spazio a tre dimensioni non possiamo sperare di ottenere tutto ciò che descrive la vita cinematica del sistema con sei equazioni perché con tre particelle indipendenti i gradi di libertà sono nove e qui ho sei equazioni con nove incognite sei equazioni non c'è verso allora sia ben chiaro queste sono equazioni cardinali ma non ma non sono miracolose il gioco di parole è in agguato e io mi fermo ma insomma perché non possono fare miracoli semplicemente perché sono sei queste equazioni e quindi i nuclei che chiediamo determinare sette otto nove o mille incognite allora quello che succederà è che queste sei equazioni potranno dare delle informazioni che vedremo di caratterizzare dal punto di vista del comportamento globale complessivo del sistema e non certo di quello puntuale di ogni suo costituente ogni suo costituente ve lo accennavo poco fa sarà influenzato nella vita cinematica anche dalle forze interne però vedete che le equazioni cardinali dipendono esclusivamente dall'azione delle forze esterne e dei loro eventuali momenti non parlano proprio di forze interne quindi tutto ciò che ha a che fare con gli effetti delle forze interne è fuori gioco uno potrebbe restare deluso dicendo che questo è un approccio povero il problema non lo è per nulla è chiaro che non è un approccio esaustivo le equazioni cardinali della dinamica sono potentissime per esempio anzi sono tutto ciò essenzialmente che ci serve quando abbiamo a che fare con dei sistemi di natura rigida di cui vi anticipavo all'inizio di questo discorso che sono quelli caratterizzati da distanze mutabili fra le singole particelle le forze interne in un sistema rigido sono formidabili nel loro ruolo di tenere la struttura indeformata ma al contempo non hanno nessun ruolo nel condurre una descrizione di moto fra le parti perché non c'è questo moto le forze hanno solo interna hanno solo il ruolo di rigidire il sistema e quindi scompaiono degli aspetti altrimenti piuttosto spaventosi insomma quando io devo descrivere il moto di un oggetto le cui parti materiali che le compongono si muovono una rispetto all'altra ho bisogno di caratterizzare il sistema tramite il ruolo delle forze interne invece questo non succederà quando abbiamo a che fare con sistemi rigidi quindi pronti a riconoscere in sei equazioni la via maestra per ottenere sei informazioni ovvero come vedremo spesso accadere due informazioni vettoriali sempre stando in tre dimensioni una relativa all'azione delle forze esterne che spiegherà che spiegherà quest'azione dei moti di traslazione di una particolare parte vettoriale del sistema di un unico suo punto che lo caratterizzerà in un modo ben preciso e poi invece un effetto e questo competenza della seconda equazione cartinale da ascriversi alle rotazioni attorno eventualmente a perni o assi che sarà opportuno descrivere e introdurre nella descrizione del nostro sistema allora lo scopo piano dell'opera qui in avanti è cercare di capire con complessità crescente il ruolo e la modalità con la quale insomma queste due equazioni cardinali si danno da fare iniziamo con un primo passo di attenzione relativo alla prima equazione cardinale della dinamica quindi noi adesso incentriamo lo sguardo sul fatto che se c'è un risultante di forze esternamente agenti sul sistema queste ne muteranno nel tempo la quantità di moto totale cioè quel vettore che è una somma delle n quantità di moto delle nostre massettine cioè le m con i v con i oppure se preferite la somma per i che vada 1 a n delle p con i in qualche modo vediamo adesso come questa grandezza e l'equazione cardinale che la incastra per bene nella sua azione ecco abbiano da fornirci informazioni sulla traslazione del nostro sistema allora per fare questa scoperta diciamo introduciamo una nuova coordinata vettoriale che prima avete intravisto come diciamo esempio nel nostro esercizio e la chiamiamo rcm è inutile che adesso nascondiamo troppi facciamo troppo i misteriosi cm sta per centro di massa del sistema allora dobbiamo definire e vedere che cosa che cosa è dimenticate quello che avete imparato fino adesso ricominciamo da capo non preoccupatevi se avete ricordi confusi quasi meglio se non ne avete allora che cosa è rcm è un vettore che ha come definizione una media pesata in che senso dovete sommare sull'indice i quando avete n particelle materiali di massa m con i la grandezza vettoriale m con i per le posizioni vettoriali dei singoli punti rispetto a un riferimento che avete scelto divisa per la somma per il che va da 1 a n ancora delle singole masse che spero sia piuttosto chiaro si può anche scrivere come lasciando stare il numeratore di questa nostra frazione è un denominatore che non è altro che la massa totale del sistema cioè la somma sulle tutte le particelle delle loro masse questa posizione sulla quale torneremo poi con tecniche della sua determinazione e collocazione insomma operativamente è una media pesata delle posizioni dei punti dove il vostro sistema dove la pesata viene in funzione delle masse quindi per essere di nuovo non troppo misteriosi voi avete uno sciame di punti materiali una nuvoletta di quello che vi pare ciascuno con la sua coordinata r1 r2 ri questo è il punto i e qui ce ne sono n il punto iesimo a massa m con i per ottenere questa posizione vettoriale rcm basta che prendiate per ognuna delle posizioni il suo prodotto per la massa corrispondente la sommate poi dividete per la massa totale perché uno si inventa questa cosa bizzarra perché questa posizione vettoriale ha delle proprietà molto molto importanti per quello che riguarda il funzionamento dell'equazione la seconda equazione cardinale la prima equazione cardinale della dinamica dei sistemi di punti vedete che se io adesso calcolo la derivata rispetto al tempo di questo rcm otteniamo piuttosto semplicemente 1 su m totale la sommatoria assumendo che le masse non cambiano ovviamente delle m con i per le dr i su di t cioè delle v con i però le v con i l'abbiamo scritto qua sopra moltiplicate per le masse con i e sommate sono ovviamente la quantità di moto totale del sistema quindi questa relazione è anche uguale a pi totale quantità di moto totale diviso la massa totale del sistema allora possiamo come dire insistere con questa notazione in vari modi ma quello che mi preme adesso mescolare per vedere il punto d'arrivo di questo discorso è questa relazione l'equazione cardinale della dinamica con questa definizione perché questa è una definizione allora vedete cos'è che scopriamo subito che forza risultante esterna al sistema che è la variazione che provoca una variazione nel tempo della quantità di moto del sistema si può anche scrivere per questa ugualienza che abbiamo appena dimostrato anzi definito più che altro semplicemente come m grande per la derivata seconda della coordinata di questo punto vettoriale che abbiamo chiamato centro di massa rispetto al tempo qui osserviamo un'equazione di formato molto familiare facciamo un piccolo sforzo in più costa veramente poco visto che rcm l'abbiamo definito in questo modo la vcm la drcm su di t cioè derivata la posizione del centro di massa rispetto al tempo la possiamo chiamare velocità del centro di massa e la indichiamo con vcm vuol dire che il punto di coordinata rcm eventualmente si muove nello spazio perché si muovono le particelle che definiscono la sua posizione con una velocità che è la velocità del punto cioè vcm definita così e abbiamo anche che questo punto potrà avere un'accelerazione che chiameremo accelerazione del centro di massa che sarà la variazione di sant'a nel tempo della sua velocità ovvero la variazione seconda nel tempo della sua posizione questo non è altro che un modo di definire queste grandezze vettoriali però vedete che con questa definizione possiamo anche scrivere in tutto il suo splendore questa relazione cioè che l'equazione cardinale della dinamica è uguale a oltre che la variazione della quantità di moto del sistema nel tempo anche al prodotto se le masse non cambiano della massa totale del sistema di particelle per un'accelerazione quale? l'accelerazione del punto che abbiamo chiamato centro di massa e vedete che questa è una espressione del tipo F uguale ma cioè quella buona vecchia espressione che al liceo ci aveva permesso di iniziare a fare dei ragionamenti quantitativi sull'effetto di una forza su una massa su un punto materiale ora però questa equazione non fatevi ingannare della sua semplicità o della sua familiarità è qualcosa di molto di più qui spiega che il risultante delle forze esterne su uno sciame di particelle su una nuvola di un miliardo di particelle o come due o una sola ora va riferita per quello che riguarda l'effetto risultante della somma insomma delle forze esterne a un punto che non è più necessariamente materiale è un punto geometricamente vettorialmente definito di coordinata rcm detto appunto centro di massa del sistema che risponde all'azione della forza esterna come se possedesse la massa totale del sistema voi avete la nuvola di particelle queste si stanno muovendo come le pazze perché fra ogni coppia di particelle c'è una molla ci sono cariche elettriche ci sono dettagli molto molto difficili di cui tenere conto che rendono questo movimento veramente intricato ma potete potete estrarre da questo mondo complicato un'informazione relativamente semplice laddove vi interessi il ruolo delle forze esterne che agiscono su questo sciame di particelle le forze interne abbiamo capito creano questa confusione complicatissima le forze esterne lavorano ciascuna presa singolarmente su ogni massa ma poi quando sommate tutte le forze esterne tutto si riduce a studiare il moto per quello che riguarda l'effetto delle forze esterne non il loro momento quella sarà la seconda equazione cardinale ma per quello che riguarda le forze esterne il loro risultante tutto si riduce a studiarne l'effetto come se il sistema fosse stato fatto collassare in un unico punto collocato nella coordinata del centro di massa con una massa pari alla massa totale del sistema se non è questa una semplificazione direi che è fuori discussione che abbiamo fatto una scoperta molto interessante abbiamo capito dove ridurre come si dice anche la nuvola di particelle quindi dove collocarla con la massa totale che la caratterizza per quello che riguarda l'effetto complessivo delle forze esterne che agiscono sulla nuvola delle particelle l'equazione è un'equazione di newton f ma solo che adesso l'accelerazione ha necessità di un chiarimento fondamentale che abbiamo appena dato accelerazione di cosa del centro di massa e f che cos'è è la forza somma di tutte le forze che singolarmente agiscono su ciascuna delle n masse e la massa che cos'è è la massa totale del sistema e questo diciamo è il primo modo importante di leggere la prima equazione cardinale adesso cosa dovremmo fare cercare di capire meglio la natura posizionale e anche le esigenze di calcolo che prevede il centro di massa per cercare di far lavorare la prima equazione cardinale nel modo più concreto e tecnico possibile